NAMASTE NAMASTE io sono EastBrave bentornati in un'altra settimana della Daily Challenge Tournament Weekly etc 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 oggi giochiamo con Cookserve Delicious quindi mettiamoci il nostro pizzettone e vediamo un po' che cosa ci capita di bello BEGIN ok numero 1 CHEESE ONION vai poi RENCH GREEN ok 2 VINOGRAD MUSHERON TOMATO GREEN 1 RENCH CHEESE BACON CROUTON HAM oddio questa cosa qua non la conosco cheese cabbage no zucchini ok cabbage ok onions vabbè ho sminchiato questo chicken bowtie seasoning potatoes carote e cabbage ok questo dovrebbe essere andato bene RENCHEESE ONION ok seasoning bacon cheese carote e broccoli vediamo se ce lo facciamo ok 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 no sta andando malissimo mio dio odio odio la zuppa vinagretta o gomme ok chicken meat rice ham tomato potato cheese celery and garlic vediamo se riesco a trovarlo eccolo la celery ok e garlic ok 3 4 chicken meat rice cubi seasoning bacon e celery ok 2 riso seasoning potato celery e bean no questo è bacon e bean mushroom tomato green 6 red cheese 7 red cheese 8 vinagrette cheese onion e pepper vediamo se ce lo facciamo sto sbagliando un macello ok 5 mushroom tomato green 6 1000 cheese bacon croton onion e green ok mamma mia 5 minuti e 52 e 20 secondi 20 centesimi ci abbiamo messo un casino vediamo di startare questo e abbiamo sbloccato fish andiamo un po' se con fish riusciamo a fare qualcosa di meglio abbiamo ancora due tentativi vediamo se riesco a recuperare difficilissimo con la zuppa però ci possiamo riprovare quindi si parte con cheese onion ok poi 2 green 2 vinagrette mushroom tomato green 1 red cheese onion 2 meat rice bacon cheese tomatoes zucchine e onion ok 1 chicken bowtie seasoning potato carote e cabbage no ho sbagliato la roba mushroom tomato green 5 red cheese gombe 6 red cheese bacon croton and onion aiuto seasoning potato bacon and cheese sono troppe zuppe insieme cavolo bacon cheese carote e broccoli broccoli dov'è u no aia 1 no vinagrette cheese gombe 3 chicken meat rice bouillon cubes seasoning bacon and celery 3 è andato 7 è andato red cheese 5 chicken meat rice ham potato celery e garlic mio dio vediamo se prendo il 6 no 6 è andato 4 sta scuocendo 1000 cheese bacon croton and onion pepper green tomato green red cheese green vinagrette cheese onion ok 5 è andato è andato male 1000 cheese green 8 mushroom tomato green 4 minuti 38 meglio di prima vediamo un po' se il nostro eh record lo possiamo migliorare ho sbagliato tantissimo potevo fare un minuto e quindici praticamente eh se avessi fatto qualcosina di meglio per adesso è questo vediamo di fare ancora la weekly ci prendiamo eh fish che spero ci porti fortuna ancora una volta almeno almeno una volta dovrebbe portarci fortuna partiamo ok ci sono non so per le stesse eh ranch green vinagrette mushroom tomatoes green and carrots ranch is bacon ranch is onion ehm adesso iniziano le zuppe italiane maledizione tomato zucchini onion eh seasoning potato bacon and cheese eh chicken bowtie seasoning potatoes se riesco a trovarlo carote e cabbage credo aver mancato qualcosa green ranch is gombo 1 2 no eh suino stew ham cheese carrot cabbage zucchini garlic onion sta andando via a 7 seasoning bacon cheese carote broccoli mamma mia che casino ho già perso un altro eh andiamo su di qua vinagrette cheese gombo per fortuna so fare il gombo almeno quello ranch is ok national tomato green eh chicken meat rice bouillon cube seasoning bacon celery ah mio dio qua bisogna essere veramente eh coreani per cercare di fare tutta questa roba qua sarà divertente guardare gli altri anche vinagrette cheese onion thousand cheese green sette thousand cheese bacon onion e green quattro uno otto mushroom tomato green abbiamo migliorato di due secondi anzi di un secondo e mezzo quattro trentasei e cinquantotto ok vediamo come siamo messi non ho idea di come siamo messi rispetto agli altri anzi non ve lo mostro ve lo andate a guardare mi sono distrutto un orecchio c'è stata una scarica elettrica incredibile eccoci tornati con spelanchi vediamo un po' cosa ci capita invece nella daily di oggi cominciamo a prendere danno scendiamo giù di qua andiamo di qua sette corde non è niente male vediamo se mi ricordo i comandi perché è già un bel po' che non gioco infatti eccolo qua il comando per andare veloci saliamo su giù di qua ecco un altro danno cominciamo molto bene prendendo già due danni neanche ancora con zero tra l'altro adesso mi farò malissimo o no? per fortuna non mi sono fatto male attenzione a questo ce ne andiamo via quello non spara quindi non è un problema questo lo uccidiamo così questo qua sotto vediamo di ucciderlo aiuto così ok adesso possiamo prendere finalmente i nostri prime 1500 scendiamo giù di qua giù di qua altri 500 1.900 questo lo uccidiamo così stiamo attenti a non morire lì c'è il cane anche oh ho sbagliato a lanciare la bomba vabbè va bene lo stesso andiamocene di qua ci prendiamo altri 500 e altri 800 dalla gemma qua c'è una pietra vediamo se mi ricordo come si prende si però l'ho buttata a caso ho rischiato di prendere un altro danno questo lo uccidiamo così qua scendiamo giù a prendere altri soldi sempre comodo prendere un po' di soldi dovrei prendere molti di più ma molti molti di più ci prendiamo il cane e ce lo portiamo via ora vediamo se mi ricordo come si fa non so neanche se il cane ci dia dei soldi in più vediamo di spaccare questo di spaccare questo ci prendiamo 1900 in più altri 500 soldini da questa parte ci possiamo prendere questi soldini qua e ce ne andiamo via vado su vado su no vado su così aia bomba ho messo una bomba in un posto sbagliato ok il cane è ancora vivo o meglio è morto però è sempre lì possiamo sempre utilizzare andiamocene avanti saliamo su di qua un'altra gemma sono altri 1200 saliamo ancora il cane può andarsene di la io prendo questo e questo che sono altri 3000 più questo sono altri 500 adesso manca uccidere quello lo uccidiamo col cane e direi che possiamo andarcene via ok prima il cane non mi sono portato dietro il cane maledizione ok 15900 vediamo di continuare ce ne andiamo di qua ce ne andiamo di qua vediamo se c'è qualcosa di interessante ok andiamo di ah aia già uno di energia devo stare attento a non cadere di nuovo se no sono morto ed è un grosso problema quindi vediamo che cosa riusciamo a fare qua ci vorrebbe una bomba però andiamo avanti vediamo se riusciamo ad andare là sopra senza allertare quello vorrei cercare di andare qua sopra no non possiamo spingere quello da così uccidiamo questo scendiamo giù c'è un negozio accessibile c'è roba che mi interessa nel negozio c'è roba che mi interessa in questo negozio vediamo c'è l'empolio di gart la bussola le guanti di arampicata la scatola di bombe il mucchio di corde non credo mi serva nulla se non in realtà un po' di bombe però meglio non prenderle forse lì c'è una roba che spara quindi devo stare attento a non prendere danno là perché se prendo danno adesso sono morto questo non riesco a prenderlo andiamo a fare il giro di qua prendo questa gemma devo anche cercare di capire dopo quanto prendo danno da caduta dopo quanti quadretti praticamente di là come vado devo andare di sopra se non mi sparano meglio andare via di qua e scendiamo giù non voglio rischiare meglio andare piuttosto nel prossimo piano andiamo giù di qua altri 400 c'è altra roba c'è altra roba qua sopra ci prendiamo questo ci prendiamo questo ci prendiamo questo ci prendiamo questo c'è di nuovo il cane andiamo ad andare di qua uccidiamo distruggiamo questo qua c'è questo qui perfetto ce la faccio qua ci sono delle bombe devo stare attento a non trovare dei nemici ce la faccio sto cercando di andarla sopra scarpe da arrampicata che però non ho idea di come funziona là c'è una gemma ce la facciamo raggiungerla? no quindi direi che possiamo andarsene via prendiamo il cane con permesso e ce ne andiamo via così il cane adesso dovrebbe svegliarsi andarsene via non cambia niente per noi però bene abbiamo recuperato il cane ok 22.200 vediamo un po' che cosa possiamo fare adesso andiamo giù di qua ok abbiamo già perso un'altra l'unico cuore che abbiamo guadagnato appena entrati qua dentro vediamo se riusciamo a fare qualcosa un sacco di nemici in giro questo lo uccidiamo l'altro se ne va giù io scendo giù e uccido uno e anche l'altro adesso devo stare attento col danno da caduta perfetto ok 22.200 il nostro risultato e quindi ci vediamo alla classifica eccoci qua con la classifica di settimana scorsa quest'oggi non ho fatto granché però spero di poter recuperare qualcosa di meglio nella settimana prossima sperando che Zetto non abbia fatto primo e primo se no ha fatto già gli 80 punti per vincere vi invito ancora a guardare i video degli altri e ci vediamo al prossimo episodio settimana prossima namaste and be brave ciao ciao ciao